Il futuro di Gaston Brugman potrebbe essere lontano da Pescara. Regna ancora incertezza sul destino del centrocampista uruguaiano nativo di Rosario, ma per il Pescara potrebbe essere comunque manna dal cielo. È noto che il presidente Sebastiani in questo periodo è molto attento ai movimenti in uscita. Servono quelle entrate utili a mettere in equilibrio il bilancio. Movimenti che c'è necessità vengano ratificati prima del 30 giugno. Così una partenza come quella di Brugman può risultare funzionare allo scopo. Il giocatore, già in passato vicinissimo a indossare la casacca del Villareal, ha estimatori all'estero. In Spagna, sempre con il sottomarino giallo in prima fila, in Belgio, il Genk, fino anche oltreoceano con alcuni club messicani che hanno chiesto informazioni. Un'altalena quella di Brugman, prima al centro del progetto tecnico di Oddo in Serie A, poi inspiegabilmente messo da parte da Zeman appena il boemo è stato chiamato al capezzale del Delfino. Salvo poi lo stesso Zeman impiegarlo e rivalutarlo nelle ultime gare di campionato. Qualora dovesse andare via, le chiavi del centrocampo sarebbero affidate all'ex Bassano Proietti a meno di altri colpi nelle prossime settimane. Tra i centrocampisti indiziato per una partenza il capitano Leian Memushai, per cui il Benevento sembra aver superato la vasta concorrenza, ma deve ancora affondare con una offerta convincente. L'operazione Coulibaly è sostanzialmente strutturata, ma l'Inter vorrebbe attendere prima di formalizzarla, a discapito del Pescara, che avrebbe interesse a chiudere entro il 30 giugno. Zampano, Ben Ali, Biraghi restano altri giocatori potenzialmente appetibili e cedibili e con i quali il presidente Sebastiani proverà a fare affari entro questa settimana. Lo stesso Sebastiani attende sviluppi circa l'operazione Skriniar, che potrebbe portare Gianluca Caprari a titolo definitivo alla Sampdoria. Avendo titolo il Pescara al 50% della rivendita, nelle casse bianca-azzurre potrebbe finire una cifra tra i 4 e i 5 milioni. Intanto è ufficiale l'arrivo a Pescara del centrocampista Andrea Palazzi, in prestito dall'Inter. L'annuncio è stato dato sui social dall'agenzia che ne cura gli interessi, la BIA Soccer Agency. Contestualmente, Palazzi ha prolungato il suo contratto con l'Inter fino al 2021.